Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Tg6 che apriamo con la cronaca. Due persone sono state arrestate dalla Polizia Postale Abruzzo di Pescara nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia al servizio di Alfredo Primante. Produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, atti sessuali su minorenni e corruzione di minore. Sono queste le accuse con cui la Polizia Postale ha arrestato due persone su ordine firmato dal GIP del Tribunale di L'Aquila. L'indagine condotta dalla Polizia Postale d'Abruzzo di Pescara e coordinata dal PM della Procura Distrettuale di L'Aquila, Roberta D'Avoglio, è partita da una segnalazione del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia. Abbiamo fatto delle indagini anche attraverso l'acquisizione di dati telematici e abbiamo identificato una persona. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto molto materiale di natura pedopornografica e tra questo materiale anche le immagini di una donna che aveva atteggiamenti sessuali nei confronti di un bambino. Per questo motivo abbiamo identificato la donna e abbiamo fatto una perquisizione anche a carico di questa signora. Nel corso delle indagini si è appurato che un utente in diverse occasioni aveva effettuato upload di files contenenti immagini a carattere pedopornografico e che poi è risultato essere un uomo residente a Pescara. Coinvolta anche la cugina dello stesso con cui intrattiene un rapporto sentimentale. All'interno dell'abitazione della donna sono stati rinvenuti foto e video ritraenti la stessa mentre compie atti sessuali alla presenza di un bambino. Il risultato può essere il figlio di 5 anni per il quale il Tribunale dei minori ha disposto l'allontanamento dalla casa. Per i minori fare attenzione all'utilizzo di internet per evitare eventuali adescamenti. Quindi i genitori sappiano di fare molta attenzione all'utilizzo dei social network da parte dei ragazzi. Quindi al di là delle opportunità che offrono si nascondono molte insidie e quindi bisogna fare molta attenzione. Un altro messaggio da attenzionare è proprio quello che il comportamento di scaricare immagini a contenuto pedo da internet o immettere immagini è comunque facilmente identificabile. Proseguiamo con la cronaca di Giuseppe Colabrese, 27 anni, di Sulmona, il cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione nel bosco di Canarbino. Il 9 ottobre scorso lo ha stabilito il DNA. L'autopsia ha riscontrato una ferita al cranio, tanto che non è esclusa l'ipotesi dell'omicidio. Tutto faceva pensare che si trattasse di Giuseppe, arrivato nello spezzino i primi giorni dell'agosto scorso, per passare qualche giorno in compagnia di un'amica abruzzese, Francesco del Monaco, 21 anni, per età, statura e scarpe da ginnastica. Dopo la scomparsa di Giuseppe, i genitori avevano lanciato un appello anche a chi l'ha visto. Davanti alle telecamere, la mamma Narita e il papà Luciano avevano riferito di aver saputo, da Francesco, che lo stesso il 6 agosto aveva accompagnato Giuseppe dalla Spezia a Genova, in coincidenza con la sua partenza col traghetto alla volta di Olbia, e che il programma dell'amico era quello di tornare a Sulmona. Un anno fa morivano in un incidente stradale due fratelli di Miglianico, Pierpaolo e Valentina Timperi. Oggi arriva la notizia della causa intentata contro la provincia di Chieti per inadeguatezza strutturale del ponte dal quale volò giù la loro macchina. Vediamo tutto in questo servizio. Katia Paravia cita in causa la provincia di Chieti accusata di non aver protetto il ponte da cui i suoi due figli, Valentina e Pierpaolo, sono precipitati in auto lo scorso 26 ottobre sulla strada provinciale 33 in prossimità di Miglianico. Valentina e Pierpaolo tornavano dal lavoro da Chietiscalo verso casa, io li attendevo e purtroppo Valentina era la guida dalle 500 e su quel maledetto ponte è accaduto un cosa, non so, però non sono più tornati a casa. Io non ho mai creduto a tutto quello che hanno detto, sia sulla velocità sia sul colpo di sonno. conoscevo molto bene i miei figli. L'esame delle condizioni stradali ha evidenziato la grande inadeguatezza sia della balaustra del ponte sia degli elementi di raccordo, carenze determinate dal mancato rispetto della normativa e da un'esecuzione non conforme alla regola dell'arte da parte del gestore della strada. Sono le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegner Gianfranco Di Giovanni, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte dei fratelli Pierpaolo e Valentina Timperio. Quel ponte non aveva nessun card rail, io mi sono appunto rivolta a questo pool di esperti per chiedere, gridare giustizia nei confronti di Pierpaolo e Valentina. La Procura della Repubblica di L'Aquila sta scandagliando oltre 1700 pratiche relative alla ricostruzione privata. Sei sono gli indagati e gli inquirenti vogliono andare a fondo. Vediamo tutto nel servizio di Daniela Rosone. Ricostruzione privata nel Merino. Partiti da Palazzo Ciolina, ora la Procura della Repubblica dell'Aquila pone sotto la lente di ingrandimento oltre 1700 pratiche. Secondo gli inquirenti infatti ci sarebbero molti casi sospetti e dunque il cantiere di Palazzo Ciolina da 23 milioni di euro con 900 mila euro di opere non dovute secondo la Procura è solo il primo aspetto di un'inchiesta molto più ampia. Ad occuparsene sono i carabinieri del nucleo operativo ecologico che su disposizione del PM Antonietta Picardi starebbero esaminando le pratiche sospette una per una. Ricordiamo che per i lavori di Palazzo Ciolina in centro sono indagate sei persone. l'avvocato Paola Belezari, proprietaria di un immobile, il progettista Vincenzo Ciolina ma anche Giuseppe Cingoli e Andrea Cingoli dell'omonima ditta incaricata di eseguire lavori Arcangelo Dragoni e Maria Lucrezia di Buonaventura. Ci sono novità nell'ambito dell'inchiesta transnazionale Social Dumping che ha scoperto un'organizzazione di operai reclutati e sfruttati nei cantieri della ricostruzione provenienti dall'est Europa. Il servizio di Daniela Braccani. Si è chiuso l'incidente probatorio nell'ambito dell'operazione Social Dumping della Procura Distrettuale Antimafia del Tribunale dell'Aquila l'indagine transnazionale che ha scoperto un'organizzazione che reclutava e sfruttava operai provenienti dall'est Europa e impegnati nei cantieri della ricostruzione del posto terremoto. Per la prima volta all'Aquila è stato contestato agli arrestati anche il reato di autoriciclaggio. Per questo motivo uomini residenti in Abruzzo e in Romania operanti nel settore della ricostruzione post-sisma erano stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila con le accuse a vario titolo di autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nessuno degli operai citati si è presentato all'incidente probatorio dopo i primi tre ascoltati lo scorso 30 settembre e chiamati a ripetere davanti al giudice Guendalina Buccella e al pubblico ministero Simonetta Ciccarelli quello che avevano affermato con un interprete alla Polizia Giudiziaria durante il loro ascolto a sommare informazioni nella fase di indagini preliminari. A questo punto si attende la probabile richiesta di rinvio a giudizio per i sei indagati da parte del PM. Secondo le accuse i lavoratori venivano pagati la metà senza garanzie, senza malattia, senza ferie costretti a subire in silenzio un compenso netto dimezzato a 50 euro al giorno e l'orario alzato da 8 a 10 ore, pena la minaccia di essere sostituiti. Le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cotelare in carcere sono Antonio Del Rico, Francesco Salvatore, Panfilo Di Meo, Giancarlo Di Bartolomeo, Massimo Di Donato e Nicola Otescu. Ed ora la politica perché arriva un'aspra critica da parte dei consiglieri di Forza Italia nei confronti della politica sulla scuola della giunta ad Alfonso. Si parla di mancata copertura finanziaria per le delibere anche sul dissesto idrogeologico. Mauro Febbo, si parla di scuole in questo periodo per la vicenda dell'alberghiero ma non solo, di poli scolastici. Il centrodestra è critico sulle azioni che sta portando avanti la regione Abruzzo. Perché? Perché si va avanti a spot senza programmazione e senza un minimo di programmazioni territoriali, quindi in corrispondenza delle esigenze dei territori. C'è un decreto del Ministero che fissava entro il 15 ottobre un concorso di idee da presentare al Ministero. All'Abruzzo vengono assegnati circa 10 milioni di euro. Non l'assessore, ma il Presidente che si sostituisce interamente all'assessore presenta una delibra in giunta di oltre 23 milioni di euro. Quindi qualcuno rimarrà estromesso. Non viene fatta l'evidenza pubblica. Oggi leggiamo che ci sono dei ripensamenti su tutti i fronti. Perché a Pescara non va bene il trasferimento dell'alberghiero. In provincia di Chieti salta la scuola perché già c'era una vecchia programmazione. Mi sembra che nella Marsica ci sono altri problemi, quindi si va avanti in questa maniera. Peraltro rischiamo veramente di perdere i 10 milioni di finanziamento. Quindi il centro-destra cosa propone? Quando ci fu la prima grande pioggia di questa infernata, 87 comuni vennero presi in giro con l'assegnazione di fondi. Fondi che oggi non ci sono. Abbiamo già denunciato questo. Oggi portiamo una lettera proprio degli uffici dove dice, conferma ciò che abbiamo detto, che al 20 ottobre i fondi non ci sono, quindi invita i comuni a non fare delle garde a palco. La problematica è che qui si continua a prendere delle delibere senza la copertura finanziaria. Cioè non si passa tramite l'ufficio bilancio. Cioè si fa solamente propaganda. Si fanno spot elettorali, si fanno quelle che io chiamo delibazioni. Cioè pezzi di carta che servono solamente per finire sui giornali e per scrivere quattro righe. Ed ora andiamo a Teramo dopo le dimissioni dei due consiglieri di Fratelli d'Italia. A parlare oggi è il sindaco Maurizio Brucchi che dichiara di rispettare la decisione dei due consiglieri ma di non condividere le loro motivazioni. Il servizio di Elisa Leuzzo. Sindaco, la sua maggioranza nell'ultimo consiglio comunale ha perso pezzi. Due pezzi. Da 21 si passa a 19. Come intende gestire questa situazione? La gestiamo con 19 consiglieri, con una maggioranza che c'è, che ha votato dopo il primo provvedimento o anche gli altri provvedimenti. Non è la prima volta che la maggioranza si ritrova in 19 a votare i provvedimenti. Quindi su questo si va avanti. Ovviamente c'è questo problema che ha anche comunicato. questa, come dire, queste argomentazioni che non condivido nel merito, lo dico chiaramente, ma che rispetto ovviamente. È una scelta, è una scelta di questo partito, è una scelta di questi due consiglieri che io rispetto anche se non la condivido. La scelta loro è stata motivata, motivata nelle scelte che non sono condivise. Ma guardi, di condivisione non ce n'è mai troppa. Si può condividere tutto, ma anche oltre tutto. Io credo che io ho condiviso quello che andava condiviso e chi dice questo sa bene che ho ragione io. È chiaro che può capitare che un progetto come il Polo Scolastico, che ha tre giorni di scadenza, venga approvato dall'Aggiunta anche in zona Cesarini, un progetto che però poi ci permette di avere un finanziamento importante, ma tanto per dirne uno, il Polo Scolastico fa parte del programma elettorale ed è stato sottoscritto da tutti i consiglieri. All'osservazione di entrambi sulle riunioni di maggioranza, finte? Per condividere bisogna partecipare alle riunioni di maggioranza. Per quanto riguarda il tavolo politico, il tavolo politico è stato convocato, forse qualcuno dice che era un tavolo politico un po' troppo pletorico, può essere, però comunque si è parlato e si è discusso. Secondo lei perché in questo suo secondo mandato è nata questa osservazione da parte di alcuni, non solo una persona, che non c'è più squadra? Io di questo non sono convinto, la squadra c'è, altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare come in un anno quasi e mezzo sono stati votati tutti i provvedimenti sempre, sempre con una maggioranza ampia. Vorrà incontrarli, vorrà chiarire quanto loro hanno dichiarato anche alla stampa? Ma io la mia porta è sempre aperta ovviamente, voglio capire anche dalle loro dichiarazioni che cosa, come intendono interpretare questo ruolo al di fuori della maggioranza, questo credo che insomma in qualche modo nei prossimi giorni qualcuno ce lo spiegherà, me lo spiegherà. Problemi di giunta anche a Montesilvano, dopo l'ultimo rimpasto prosegue la ricerca di un assessore donna, improbabile l'ingresso in giunta di Manola Musa, molto critica nei confronti del sindaco Maragno. Vediamo. Sindaco Maragno, manca un assessore donna in giunta, si parla di questa richiesta che le avrebbe fatto la consigliera Musa, ma abbiamo ascoltato pochi minuti fa l'intervento proprio della consigliera, piuttosto critico nei suoi confronti, qual è la situazione? La situazione è chiara, io nel momento in cui ho appreso della volontà di alcuni assessori donna di volersi dimettere, ho mandato una comunicazione a tutte le consigliere elette in seno al Consiglio Comunale chiedendogli la disponibilità a far parte dell'esecutivo di questo comune, nessuno ha dato la sua disponibilità eccetto la Musa a cui ha scritto chiaramente che lei era disponibile a venire in giunta, ragion per cui dovendo completare questa rosa qua ho mandato una convocazione formale a venire a sottoscrivere l'accettazione della nomina d'assessore, però evidentemente un giorno si pensa una cosa e il giorno dopo si cambia idea, credo che questa sia una cosa abbastanza simpatica. Si andrà avanti con i lavori, secondo lei ci potrà essere un passo indietro della consigliera oppure dovrete pensare in altro modo sul da farsi? Noi continueremo ad andare avanti in ogni caso programmando e intervenendo laddove ci sta da intervenire, la composizione della giunta è mia intenzione di completarla, i tempi richiesti probabilmente si allungano un pochino ma non dispero di farlo il prima possibile. Passi avanti nella vertenza alla Burgo di Avezzano, si va verso un aniuco che potrebbe rappresentare un'occasione importante per superare la vertenza della cartiera e il servizio. Potrebbe avere un lieto fine la vertenza della cartiera a Burgo di Avezzano, entro tre mesi infatti dovrebbe nascere un aniuco che guarderà al settore del cartone e degli imballaggi con un nuovo imprenditore pronto ad entrare nell'opificio marsicano. Dunque si profila una riconversione della cartiera, l'ultima del gruppo rimasta in produzione dopo la chiusura dello stabilimento di Chieti, anche se la Burgo ha annunciato di non voler abbandonare completamente il sito produttivo di Avezzano. Infatti nel caso vada in porto la trattativa verrebbe stabilita una joint venture con Burgo che manterrebbe la produzione grafica e attiverebbe una terza taglierina, il che potrebbe significare il ritorno al lavoro di alcune delle maestranze che sono attualmente sottoposte a contratto di solidarietà. La soluzione è emersa nella riunione tenutasi oggi in Regione Abruzzo e convocata dal Vice Presidente Giovanni Lolli. Noi abbiamo deciso di fare qui in Regione un tavolo permanente con il Comune di Avezzano, con la provincia, con il sindacato, con l'azienda Burgo e con la nuova azienda, tutti i mesi, ogni paio di mesi ci vedremo e monitoreremo l'andamento di questa attività. L'orizzonte possibile è un orizzonte nel quale noi possiamo rioccupare l'intera forza lavoro che era recentemente, non quella di qualche anno fa purtroppo, ma quella che recentemente è impegnata a vario titolo o sta in contratto di solidarietà oppure sta lavorando in aziende della Burgo Medesima, ma nel nord, e più quelli che stanno in mobilità. È stata presentata l'indagine congiunturale in Abruzzo presentata dal Cresa. Secondo i dati, bene l'edilizia, crescono le grandi imprese ma soffrono ancora piccole e medie, in particolare i settori ad andare peggio sono commercio, artigianato e ristorazione. Buoni segnali arrivano dall'edilizia, secondo l'indagine presentata oggi dal Cresa. Incremento di fatturato e commesse, crescita dell'occupazione, le grandi imprese però crescono mentre si rilevano ancora difficoltà per le piccole e medie imprese. Noi diciamo ulteriori segnali di miglioramento, quindi la positività è una positività limitata e ci viene soprattutto dal settore dell'edilizia. L'edilizia che ha l'effetto trascinamento del sisma aquilano, che coinvolge un po' in subappalto di tutte le imprese abruzzesi e ci dà segnali positivi anche sul fronte occupazionale. Le difficoltà invece proseguono nel settore del commercio, con diminuzione dell'occupazione e aumento dei costi. Anche l'artigianato mostra risultati negativi di fatturato, ma l'occupazione in questo settore cresce leggermente. L'Abruzzo si aggrappa agli indicatori di ripresa, ma rispetto al resto d'Italia è un po' indietro. Rispetto al resto dell'Italia non siamo in netto ritardo, comunque anche noi abbiamo agganciato gli indicatori economici che ci danno segnali di ripresa, tal che parlavamo un paio di settimane fa della congiuntura economica del secondo trimestre manifatturiero che dà segnali di grossa ripresa e soprattutto segnali di grossa ripresa nell'occupazione legata all'industria. Rispetto all'Italia stiamo un po' in svantaggio perché alcune proiezioni anche degli istituti di ricerca nazionali e quelle nostre lo stesso ci dicono che per esempio il PIL dell'Abruzzo crescerà grossomodo dello 0,7% rispetto nel 2016, sto parlando, rispetto a 1,1-1,1,3% previsto per l'Italia. Ovviamente non risentiamo gli effetti trascinamenti che ci arrivano successivamente. calo anche per le imprese della ristorazione e per la grande distribuzione. Ora ci occupiamo di viabilità. Lunedì mattina alle ore 7 sarà riaperta la galleria San Silvestro sulla variante che collega Francavilla Pescara-Monte Silvano. La comunicazione è arrivata al comune di Francavilla da parte di ANAS con l'ordinanza 126 ritardo nella riapertura della strada chiusa quattro mesi fa per lavori di sistemazione delle infiltrazioni di acqua all'interno del tunnel. è stato dovuto al furto di materiale elettrico avvenuto nel cantiere qualche giorno fa. Ed ora ci occupiamo di associazioni ambientaliste che continuano a chiedere la perimetrazione del parco della costa teatina inviando questa volta una lettera alla Presidenza della Repubblica e del Consiglio per chiedere risposte certe sul parco della costa. Vediamo. Tutte le associazioni ambientaliste abruzziesi hanno firmato un documento che riguarda il parco della costa teatina, documento che invierete alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Repubblica. Perché la stipula di questo documento? Per il semplice fatto che sta diventando comica la storia del parco nazionale della costa teatina. Sta diventando comica perché si pretenderebbe di ridiscutere un argomento che è già stato affidato a un commissario, è una cosa contro ogni norma di legge, il commissario interviene quando chi è predisposto normalmente a elaborare un documento non riesce a farlo, non ha senso che debba tornare a discutere con quell'organismo, il Consiglio comunale in questo caso, i comuni e la regione nel caso del parco della costa teatina che non sono riusciti in 15 anni a fare una perimetrazione, siamo contro la legge, contro la logica, contro ogni altra cosa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve chiudere questo procedimento come che diventi una farsa, il Presidente della Repubblica deve firmare e bisogna fare il parco così come è stato delineato dal commissario, non c'è nessuno spazio per le modifiche. Abbiamo firmato questo documento a tutte le grandi associazioni ambientaliste abruzzesi e chiediamo che venga rispettata la legge. Vi aspettate anche una risposta da parte del Governo a questo punto? Certamente, ci aspettiamo una risposta e ci aspettiamo che il Governo regionale e i comuni la smettano di cioclarne il manico, la smettano di far fin da che possono fare delle cose che in realtà non possono fare. Qui stiamo soltanto per dentro tempo e stiamo cercando di aggirare la legge in maniera totalmente assurda e inconcepibile. Questa mattina si è svolta una dimostrazione sull'efficienza delle unità cinofile antidroga da parte della Guardia di Finanza e si tratta della prima esperienza nel suo genere. Vediamo tutto in questo servizio. Dimostrazione di efficienza delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza del Comando regionale dell'Aquila. L'esercitazione, prima nel suo genere per la Guardia di Finanza abruzzese, ha visto confrontarsi tra di loro 12 militari cinofili e rispettivi cani in due differenti impieghi operativi. Una prima ispezione di plichi, anche di corrispondenza del Corriere Espresso dell'Aquila e un controllo sulle persone in movimento, con la simulazione di uno scenario generico di un terminal di attesa presso la caserma del Comando regionale della Guardia di Finanza. L'attività di controllo è fondamentale, sia per quanto attiene il discorso repressivo che per quanto attiene il discorso preventivo. Infatti questi controlli vengono fatti quotidianamente dall'unità cinofile sia per controllare e mantenere alto il rischio di poter controllare il traffico nelle varie situazioni, nelle varie città, delle sostanze stupefacenti. Al termine dell'esibizione il comandante regionale Agnello ha consegnato all'unità cinofila che ha realizzato il maggior punteggio una medaglietta commemorativa e ha precisato che i cani non vengono drogati come si crede comunemente. È importante precisarlo. C'è da ricordare sempre che i nostri cani ovviamente non sono drogati e che cercano lo stupefacente soltanto perché stimolati attraverso un gioco. Una nuova carta dei servizi per gli studenti universitari a Teramo è stata presentata questa mattina tra le varie agevolazioni, anche quelle di carattere commerciale. Vediamo. La nuova carta dei servizi che stiamo approntando con l'UDU allarga semplicemente delle opportunità che già ci sono perché ricordiamo che l'UDU ha già una carta servizi però per i soli iscritti UDU che dà loro la possibilità agli studenti di avere delle agevolazioni all'interno delle attività commerciali a Teramo e degli esercenti di somministrazione, bar e ristoranti. Con questa nuova carta dei servizi su sollecitazione degli studenti e dell'UDU vorremmo allargare a tutti gli studenti universitari i servizi che oggi invece sono solamente per l'UDU. E quindi quando avremo attivato questa nuova carta dei servizi con il semplice badge universitario, cioè con l'iscrizione all'università, ogni universitario potrà usufruire degli sconti che i commercianti Teramani metteranno a disposizione degli studenti. Chiaramente sono sconti che sono variabili per attività. Io ringrazio la CNA, la Confesercenti e la Confcommercio che sono state disponibili che nei prossimi giorni, spero, porteranno tanti nuovi commercianti ad aderire alla carta dei servizi. Vorremmo fare un pomeriggio universitario con i commercianti per promuovere la nuova carta servizi. Stiamo pensando con l'UDU e con le associazioni di categoria come organizzarla, però siamo già a buon punto. Non abbiamo una data, ma fra poco la pubblicizzeremo sicuramente. Ora apriamo la pagina dello sport, seduta di rifinitura questa sera per il Pescara Calcio che domani alle 19 incontrerà la Pro Vercelli per l'anticipo di giornata. Ancora silenzio e soprattutto il tecnico tiene le carte coperte sulla formazione. Qualcuno dice che in campo si vedrà quello che era successo a Trapani. Vediamo. È una partita difficile, una partita difficile per tanti motivi. perché la storia delle partite contro questo allenatore ci insegna che ha sempre messo in difficoltà il Pescara perché è un allenatore molto bravo, che fa della concretezza l'arma più importante delle sue squadre. affronteremo una squadra, secondo me, solida che verrà qui per cercare di portare via punti e che credo che avrà un atteggiamento di difesa e sfruttare le ripartenze. Credo che questo sia un po' il modo di approcciare questa gara. Quindi per noi sarà una partita difficile perché sappiamo che quando troviamo questo tipo di squadra bisogna avere molta pazienza, bisogna giocare bene, bisogna creare e poi se abbiamo la fortuna di sbloccare il risultato magari la partita diventa diversa da quella che magari ci si aspetta. I margini tra una squadra e l'altra sono veramente minimi, conta tantissimo magari l'organizzazione che ogni singola squadra ha, più che la forza effettiva che questa abbia e quindi andiamo a trovare una squadra che è un allenatore che è molto organizzato. Non dobbiamo stare tanto a guardare l'avversario a breve termine, in questo caso noi ci dobbiamo porre un obiettivo che è quello di ingranare e di continuare sulla nostra strada tenendo conto che per noi domani c'è solo un risultato che è la vittoria. Abbiamo una rosa altamente competitiva, il posto non è assicurato per nessuno e il posto bisogna guadagnarsi, tutto qua. Io guardo molto gli allenamenti, guardo le prestazioni, cerco di guardare tutto e domenica dopo domenica, partita dopo partita, ognuno si deve guadagnare e sudare il posto. Io domani non mi farò condizionare la partita di lunedì assolutamente ma manderò in campo la formazione, la squadra che mi dà più garanzie e che è più adatta a incontrare questo tipo di partita. Poi penseremo a Novara. Ora ci andiamo a sentire anche le dichiarazioni pre-gara del tecnico della Provercelli, Claudio Foscarini. Andiamo a affrontare squadre importanti perché il Pescara è trovato anche in un'ottima condizione, in una buona condizione, una delle squadre più in forma. Credo che abbia un attacco micidiale a dei giocatori che non ti danno di riferimento. Caprari, Lapadula, Cocco ha un attacco micidiale, stanno molto bene. Però mi piace che la mia squadra vada a affrontare e si giochi la partita. Come l'ho visto con lo spirito giusto in casa, questo spirito dobbiamo riprodurlo anche fuori casa. Cosa per dire che questa è stata una caratteristica degli anni passati di essere meno, meno, meno forte, meno tenace fuori casa. Ecco, io vorrei riportare questo spirito che abbiamo in casa e riportarlo anche fuori casa. Perché tu non sai mai dove vai a prenderti i punti e quindi su questo stiamo lavorando. E per me è un test sul piano psicologico importante, capire un attimino la squadra se ricepisce questo. Mi piace una squadra che si vada a giocare qualcosa di importante anche fuori casa. E ora scendiamo in Lega Pro e ci occupiamo del Teramo. Luca Cecchini non dovrebbe giocare sabato nella partita casalinga contro il Prato, al suo posto Dorazio, mentre a centrocampo per sostituire lo squalificato Amadio in pole position c'è Antonio Palma. Adesso ci andiamo a sentire l'esterno sinistro. Sicuramente clima, diciamo che c'è ovviamente voglia di rivalsa, di ripartire. Cancelliamo questa partita perché purtroppo i motivi non sono ben chiari. Potremmo aver sbagliato la mentalità, magari non entrati con la giusta aggressività, la giusta cattiveria e poi ci siamo ripresi solo nel finale. La partita ormai è piuttosto compromessa. Ovviamente adesso è una pagina chiusa. Cerchiamo di capire i nostri errori, migliorare e niente. Proviamo ovviamente già dalla prossima a fare il nostro meglio. La spinta del pubblico è importante, però potrebbe essere una cosa mentale. Dobbiamo comunque essere in grado di imporre il nostro gioco anche fuori, di riuscire a ambientarci, abituarci un po' alla situazione. Ovviamente non è un alibi il pubblico, comunque il giocare in casa o il fatto che magari giochiamo in terreni diversi. Sono una questione di testa. Dobbiamo essere mentalmente in grado di imporci pure fuori, ce la possiamo tranquillamente fare. Dobbiamo essere in grado di garantire la stessa continuità in ogni partita, che sia in casa, che sia fuori casa. Dobbiamo sempre essere sul pezzo, con la testa, aggressività, cattiveria, indifferentemente dove giochiamo e con chi giochiamo. Questo è l'unico modo per poter poi garantire prestazioni di ottimo livello. L'importante allora era inizialmente elevare subito il meno dalla classifica. Poi bisogna cercare di stare il più tranquilli possibili, perché ovviamente è una situazione di svantaggio. È importante essere sereni e liberi con la testa, cercare di garantire le prestazioni il più migliori possibili. Però non possiamo definirlo come un peso. Al momento siamo in questa posizione e ovviamente tocca fare il meglio possibile. Poi i risultati verranno e la classifica parlerà. L'Aquila Calcio presenta i tre nuovi sponsor e la maglia ufficiale con i nuovi loghi per il campionato. Intanto il presidente Chiodi dichiara che il nostro è un progetto serio. Vediamo. L'Aquila Calcio ha tre nuovi sponsor presentati nel corso di una conferenza stampa, durante la quale è stata mostrata in anteprima la maglia rosso-blu con i nuovi loghi. L'azienda aquilana Sodif è main sponsor. A rappresentarla l'imprenditore aquilano Dino Di Fabio, che ha invitato tutta la tifoseria a sostenere la squadra rosso-blu e questa società in un momento difficile. L'RBM Spa, nella scorsa stagione main sponsor, diventa invece gold sponsor, mentre platinum sponsor è la GEP Intec di Antavilla Vicentina. Soddisfatto è il presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi, per il contributo sostanzioso che queste tre aziende daranno al sodalizio rosso-blu. Le mie aziende Sodifa e Centro Gas hanno una serie di clienti, numerosi clienti, per cui in qualche misura da questa città io ho avuto molto, e quindi vorrei, restituisco in qualche misura un qualcosa che negli anni sono riuscito a fare. Gli chiamo simboli o comunque elementi che creano la propria identità, come popolo, come città in questo caso, credo sia molto importante. Non potevamo fare altrimenti, vista anche tutta la collaborazione che si è creata con Chiodi e tutti gli altri soci dell'Aquila Calcio, è la passione che comunque ci trasmettono ogni giorno. Soddisfatto, il presidente Corrado Chiodi, per il contributo sostanzioso che queste tre aziende daranno al sodalizio rosso-blu. Senza dubbio per noi è motivo d'orgoglio questo, ci dimostra che ancora qualcuno in noi ci crede. Tre sponsor importanti. Con lo sport si conclude questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti